Siamo qui con Andrea Forliano, capitano dell'Ajax, vincitore per 7 a 5 sul Borussia Dortmund in questa giornata di Citroen Cup. Andrea, come giudichi la prestazione della tua squadra? Finalmente abbiamo dato la prestazione esatta per la vittoria, anche se già alla prima partita potevamo raccogliere di più. Nonostante questa sia la nostra prima esperienza di torneo, di competizione, sono sempre soddisfatto dei ragazzi che ci hanno messo il massimo impegno e cuore. Siete andati in vantaggio per 5-1, poi avete subito la rimonta dei vostri avversari e siete riusciti a conquistare la vittoria. Adesso testa alla prossima partita, come la preparerete? La prossima partita è semplice, fare esperienza di questa partita e ogni partita mettere nel cassetto quanto più esperienza per essere ancora più competitivi, partita dopo partita. Bene, allora io ti ringrazio e ti faccio un grande in bocca al lupo e alla prossima. Crepi, grazie.